Non è omnibus, però chissà se... A che stai pensando, grande Puffo? E beh, è stupido, lo so, ma mi stavo chiedendo cosa avrebbero fatto in quella situazione i piccoli Puffolini. Non te lo chiedere, prova a immaginarlo, grande Puffo. Buo Grasso è nel campo di Puffback, che cosa possiamo puffare? Dobbiamo puffolinare un piano, giusto? Sciattone io! Buo Grasso, non essere mai stanco di mangiare Puffback. Ecco fatto, scettone così, l'abbiamo puffolinato a dovere. Buo Grasso, scommetto che non hai visto quelle Puffback lì per terra. Quali Puffback? Sono grandissime, guarda proprio davanti a te. Buo Grasso adora grandi Puffback. Buo Grasso... Buo Grasso cade! Buo Grasso non potrà più mangiare Puffback per oggi, ma ne ha schiacciate molte di più di quante ne avrebbe mangiate. Però il piano dei Puffolini non era niente male. Chissà invece se bebi Puffo... No! Questo non posso proprio immaginarlo. Hanno bisogno di me, Omnibus. Il tuo Fantasticus mi ha anche fatto vedere quanto. Sono contento di averti aiutato. Farò meglio a tornare al villaggio. Non si sa mai, potrebbe succedere qualcosa. Eh eh, addio vecchio amico! Arrivederci, grande Puffo, arrivederci! Buo Grasso, non è più tornato? No, grande Puffo! Ah, per caso qualche Puffo ha avuto bisogno di me? Niente affatto, grande Puffo. Tutto è puffato nel migliore dei modi. La diga si sta spuffando! Che cosa facciamo, grande Puffo? Si sta spuffando nel Puffo! Calma, miei piccoli Puffi! Guarda come se la cava il vecchio grande Puffo! Vuoi dire il giovane grande Puffo? Fa' attenzione, grande Puffo! Inventore, fa passare la corda sopra il ramo di quell'albero! Subito, grande Puffo! Opla! Perfetto! Ho puffato la corda a quel tronco! E adesso tirate la corda, tirate! Tutti insieme! Bene, cominciate a mollare! Fissate bene quel tronco! Opla! Mi raccomando! Fissatelo bene adesso! Ha funzionato! Per tutti i puffolini ballerini sei riuscito a farcelo, Papi! Oh, cosa saremmo noi senza di te, grande Puffo? Non riesco proprio a immaginarlo, Puffetta! Proprio non ci riesco! A drive out! Vuoi accelerare? Forza! Ricorrila! Tra qualche istante parte la corsa più pazza d'America! Oh, cosa saremmo noi senza di te, grande Puffo? Perfetto! Oh, cosa saremmo noi senza di te, grande Puffo? via, è cotto un soldo di cioccolato ecco fatto il soldino del molino bianco che ti ha offerto i puffi ciao, mi hanno dato 30 secondi di tempo per spiegarvi che cos'è una trasmissione di successo ok, è una trasmissione di successo io mi auguro e spero che continui ad esserlo perché dal 7 gennaio su Italia 1 alle 20.30 sarò io a condurre questa trasmissione è fortunata dunque il gioco non si tocca perché come un bambino cresce bello e sano ma ci saranno delle novità ci saranno degli ospiti simpaticissimi e soprattutto lo diciamo, diciamolo piano ogni tanto canterò naturalmente ora do appuntamento a tutti a il 7 gennaio alle 20.30 su Italia 1 con l'ok, il prezzo è giusto potrete assistere fra poco per Drive Out all'esilarante film La Corsa più pazza d'America con Herbert Reynolds, Roger Moore e Farrah Fawcett subito dopo ancora un film comico Amore al primo morso con George Hamilton vampiro costretto ad emigrare nella New York dei nostri giorni su Canale 5 sta per andare in onda l'ultima puntata di La Via dell'Ouest e su Rete 4 un film in prima assoluta per la televisione Il Principe e il Povero con Mark Lesser, Oliver Reed e Michael Welch ma ora vi lascio al film La Corsa più pazza d'America Buona serata Per le mani di tutta la famiglia S.O.S. Gli Solid Gli Solid vi offre questo film Il Principe e il Corsa più pazza d'America